Grazie a tutti. La caravana di persone che le porge gli auguri per questa giornata particolare. Partirei dal Vesuvio, lei è anche presidente dell'Assemblea dei Sindaci della comunità del Vesuvio. Vesuvio che è una risorsa ma che resta comunque sempre purtroppo una minaccia. Nelle scorse settimane il governatore De Luca ha strigliato i sindaci del Vesuviano che sono in ritardo sui piani di fuga per una possibile evacuazione. Intanto ad Ottaviano com'è la situazione? Di la verità io innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità datami, grazie per gli auguri. Diciamo che siamo forse stati bravi a presentare immediatamente, noi già tenevamo a dir la verità, un piano di evacuazione fatto. Però bisognava aggiornarlo. Grazie alla Regione Campania che abbiamo ottenuto attraverso la Regione Campania dei fondi per adeguare il piano di evacuazione. Cosa che abbiamo fatto immediatamente, abbiamo portato in Consiglio Comunale, abbiamo trasmesso gli atti alla protezione civile regionale e anche praticamente alla Regione Campania. Dico che è vero in qualità di Presidente della Comunità del Parco, dico che il Vesuvio ha tante risorse, può darsi anche che sia una minaccia, anzi sicuramente. Però vorrei tranquillizzare un po' la gente che comunque vive con questo pericolo, a volte si leggono su giornali internazionali, anche sui social network che c'è il pericolo. Io tranquillizzo, voglio tranquillizzare la popolazione, mentre un terremoto non può essere prevedibile, il Vesuvio almeno per quanto ci dicono, un atto di previsione lo dà, un segnale lo dà. E per oggi siamo praticamente con nessun tipo di allarme. Comunque è sempre importante la prevenzione e il Governatore della Campania ha presentato questo piano di fuga che prevede l'evacuazione dei cittadini di queste aree nel giro di 72 ore. Che cosa non vi convince di questo progetto della Regione che prevede una sorta di deportazione dei cittadini anche al di fuori della Regione Campania? Ottaviano è capofila di piani di evacuazione insieme al Comune di Poggio Marino. Siamo stati noi preculsori di questi piani di evacuazione. Ci siamo adeguati a tutto ciò. Abbiamo anche avuto contatti con la protezione civile di Frosinone, dove Ottaviano praticamente dovrebbe essere evacuata. A noi non ci convince innanzitutto il piano come è strutturato. Immaginate un attimo un'intera popolazione che evacua un pullman, mezzi propri, senza infrastrutture. Perché fondamentalmente le infrastrutture sono poche. Abbiamo una stradale 268 e per fortuna, grazie anche a un nostro intervento, insieme all'epoca al prefetto Mussolini, attualmente con il prefetto Gerardo Pantalone, siamo riusciti a far ripartire il cantiere in modo anche veloce, perché stanno, a dire la verità, stanno lavorando in modo veloce, grazie anche ai fondi regionali e ai fondi europei. Ovviamente però le infrastrutture, credo, per tutta la popolazione che dovrà spostarsi, è poca. C'è poca, voglio dire, poca infrastruttura. Anche se noi abbiamo un'idea diversa del piano di evacuazione, voi sapete che il piano di evacuazione è nazionale, io invece ritengo, con un'associazione casertana proprio, abbiamo studiato, ideato, un piano di evacuazione sulla base regionale. Immaginate un attimo la popolazione che, tutta l'area vesuviana che abbandona la zona, no? Immaginate il PIL della regione Campania come cala, il distacco della popolazione, noi abbiamo visto l'evento di Amatricia, no? L'evento tragico di Amatricia, dove la popolazione vuole rimanere sul territorio. E infatti stanno, diciamo, organizzandosi attraverso praticamente le casette di legno, attraverso, per togliere poi tutta la fase delle tende strutture, per rimanere nella zona. Il distacco è brutale. Allora credo che con un piano di evacuazione regionale si possa divenire una soluzione seria e importante. Immaginate un attimo la zona dell'Alto Avellinese, l'Alto Beneventano, l'Alto Casertano, l'Alto Salernitano, dove veramente credo, ma studi fatti, non lo dico perché così ci è venuta l'idea, abbiamo fatto uno studio statistico dettagliato, dove praticamente ci sono delle città, dei paesi che sono veramente spopolati. Quindi trasferire tutta questa popolazione in queste zone, non c'è più il distacco così totale dalla regione. Immaginate un attimo Ottaviano Frosinone, ma ci sono altri paesi, Torino, Milano. Far sì che la popolazione si debba insediare in un'altra città diversa, con cultura diversa e con problematiche diverse è difficile. Invece in queste zone la distanza è minore, ma immaginate anche la repercussione economica che ci possa essere poi in regione Campania. Un professionista potrebbe comunque lavorare lo stesso, un commerciante può dare lo Stato una mano a poter continuare l'attività commerciale in questi paesi. Immaginate un attimo fuori addirittura dalla regione Campania. Insomma va rivisto sicuramente questo piano. Intanto, Sindaco, dicevamo che il Vesuvio è comunque anche e soprattutto una risorsa. Dal punto di vista turistico c'è stata la giusta valorizzazione del Vesuvio in questi anni da parte dell'ente Parco. Che cosa è mancato? Io credo che è mancato tanto. È vero che il Vesuvio oggi percorre circa un milione di visitatori all'anno. Però abbiamo tanto da fare. Diciamo che l'abbiamo pubblicizzato forse negli anni passati male. Però oggi credo che c'è una forza giovane come Presidente che voglia comunque dare un'impronta diversa. Nulla togliendo al Presidente precedente, ovviamente una bravissima persona. Però c'è un passo diverso nel pubblicizzare e quindi rendere alla popolazione che abita intorno al Vesuvio una visione diversa del Vesuvio. Non soltanto il pericolo o addirittura i vincoli. Ma anche le opportunità che ci sono attraverso l'agricoltura, attraverso il turismo, attraverso tante attività che possono far ridurre la nostra zona. Noi abbiamo delle bellezze naturali che purtroppo, forse, probabilmente non sappiamo valorizzare, soprattutto non sappiamo sponsorizzare bene. Ecco, intanto, una delle questioni aperte, soprattutto nell'area dei comuni del Vesuviano, è quella relativa all'abusivismo edilizio. Lei come sta affrontando questa situazione? Perché nel corso degli anni non sono mancate le polemiche, si è parlato di cementificazione selvaggia, anche e soprattutto nella cosiddetta zona rossa. Sorrido perché sono stato identificato come il primo Presidente della comunità del parco cementificatore. Voglio chiarire questa questione. Io ho detto sempre che per colpa della politica di 30 anni, se 30 anni fa hanno dato l'opportunità di costruire in modo abusivo, senza bloccare, poi legittimare ciò che era stato fatto attraverso i condoni, dopo 30 anni non possiamo far aspettare una popolazione, 30 anni di vita per ottenere poi quella licenza in una concessione praticamente del condono. E quindi c'è una responsabilità da parte della politica. Io non dico costruiamo perché non dobbiamo più costruire, non dobbiamo più cementificare, ma legittimiamo quello che praticamente è stato realizzato. Ovviamente perché dopo 30 anni, non puoi dire vicino ad un cittadino che probabilmente ha sudato per realizzarsi quella costruzione, dopo 30 anni non gli rilasci il condono e gli dici caro mio esci di casa perché la casa te la butto a terra. Ecco, i sindaci sono davvero soli ad affrontare questa emergenza? Siamo soli perché ovviamente il problema è in contrasto con le leggi dello Stato, a volte ti trovi in difficoltà dove tutelare l'interesse di un cittadino che sta in difficoltà una sola abitazione con famiglie, se è il caso con bambini piccoli, dove ti trovi un altro atto della procura che ti dice che devi abbattere quell'abitazione, ti trovi in difficoltà, però io credo che ci vuole un intervento e non l'abbiamo chiesto più volte anche con le comunità del parco, un intervento dell'assessore regionale, un intervento del governo per mettere fine a questo scempio, perché per me è uno scempio. Allora se abbiamo dato l'opportunità di presentare una domanda di condono, legittimiamo e legalizziamo quello che abbiamo fatto fare nel passato. Dopodiché tracciamo una linea ferma, dura, dove non si può più costruire nulla. Ecco intanto tre anni da sindaco per lei in questa realtà, com'è cambiata Ottaviano in questi anni? Credo che Ottaviano sia cambiata, però i miglioramenti della città si vedono con il passare del tempo, nessuno ha una bacchetta magica, oggi il sindaco, fare il sindaco, io dico ma non perché lo faccio io, ci vuole il coraggio. Ci vuole il coraggio perché è difficile in una situazione ambientale complicata, dove una crisi economica che si è abbattuta negli ultimi anni dà un problema atavico del posto di lavoro e quindi la gente ti chiede sempre la stessa cosa, puoi fare la migliore piazza, la migliore strada, la migliore struttura pubblica, resta il fatto che comunque la gente vuole il posto di lavoro. Io dico sempre pensare a lungo termine, lavorando e creando per la collettività, anche questo riesce a creare il posto di lavoro. Si immagini che noi abbiamo fatto un piano regolatore dopo 60 anni nella storia di Ottaviano, abbiamo realizzato il piano regolatore, abbiamo approvato il piano regolatore, precedentemente fatto dalla vecchia amministrazione, l'abbiamo portato a termine. Politicamente poteva essere un'opportunità quello di ripartire con il piano regolatore e modellare il piano regolatore a secondo della tua linea politica. Abbiamo pensato alla collettività, alla gente, che perdere altro tempo sul piano regolatore e quindi dare una certezza di regolamento, di certezza di legge su quello che si può fare a Ottaviano o meno era importante. Infatti oggi si rilasciano concessioni per uso produttivo, possono praticamente ristrutturare le abitazioni con abbattimento e ricostruzione, quindi stiamo facendo muovere anche l'economia, perché è così. Dove c'è praticamente la possibilità di muovere le imprese di costruzione, praticamente gira anche l'economia. Un po' tutta la provincia di Napoli vive dal punto di vista della sicurezza una situazione difficile. Ottaviano nel corso degli anni, inutile negarlo, è stato identificato come il paese di Cutolo. Oggi com'è cambiata la situazione dal punto di vista dell'ordine pubblico e dell'emergenza criminalità? Abbiamo fatto tanto, ma soprattutto devo ringraziare le forze dell'ordine, che comunque hanno operato tantissimo sul nostro territorio. Questa macchia che mi sembra indelebile, a volte mi arrabbio, perché Ottaviano è sempre stato marchiato come il paese della Camorra. Noi abbiamo un simbolo, che è il Palazzo Medicio, identificato da alcuni giornali, a dire la verità, anche in modo sprezzante, e dico con cattiveria, come il castello di Cutolo. Credo che in questi anni, dove abbiamo lavorato tantissimo sulla rifluzione del castello per i cittadini, grazie anche al contributo della gente, della cittadinanza che è attiva, tipo i ragazzi della Prologo, che sono stati bravissimi a mostrare che quel castello non era il castello di Cutolo, ma il palazzo Medicio, il palazzo della città. Dove abbiamo creato anche i mercatini di Natale, dove abbiamo vinto un premio nazionale, Italia Live 2015, organizzato da Stato per l'Italia. È un impronto importante, lo ripeteremo quest'anno, è il terzo e quarto anno che lo facciamo, e lo facciamo con onore, ma non nel castello di Cutolo, nel palazzo Medicio. Quindi possiamo dire che questo palazzo è anche il simbolo del riscatto di questo territorio. Certamente, anche con la sede del Parco Nazionale del Vesuvio è diventato comunque un simbolo di legalità. Apriremo il primo piano, faremo un'inaugurazione con il ministro degli interni, ovviamente faremo la sede del comune, l'ufficio del sindaco, all'interno del castello del palazzo Medicio, per dimostrare che è una sede dello Stato, dove là ha vinto lo Stato. Per chiudere, sindaco, questa nostra intervista, qual è la sua sfida per la città del futuro? Che cosa ha in mente per Ottaviano? Ovviamente città più sicura, città con barriere architettoniche abbattute, strade messe in sesto, perché purtroppo anche quello è un problema tavico, però con i problemi di tagli di bilancio, tra patti di stabilità abbiamo una serie di difficoltà, ne stiamo facendo tante. La metanizzazione che cercheremo di fare, abbiamo già predisposto la gara alla stazione unica appaltante, creare una città a modello d'uomo, però io quello che chiedo è soltanto il tempo, perché io credo che in tre anni di amministrazione si mettono in campo tanti progetti, per la realizzazione di tutto ciò ci vogliono più tempo. Grazie per questa intervista, naturalmente di nuovo auguri per il suo nomastico, grazie al sindaco di Ottaviano Luca Capasso per questa intervista, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito, buon proseguimento con Otto Channel, arrivederci. Grazie.